Oggi risotto allo zafferano, con corti riso Carnaroli, 100% italiano. Oppure un curry piccante, con corti riso Basmati. E per restare in forma, corti riso integrale, ricco di gusto e di benessere. O un classico sempre di moda, risotto ai frutti di mare, con corti riso Arborio. Buono da impazzire. Corti riso, il grande classico italiano. Corti riso.